Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in entrambe le direzioni. Sempre in FIPPILI si segnalano code e traffico bloccato per una perdita di carico al chilometro 47-300 tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Si ricorda che è chiusa per lavori l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!